Pramantino, tu sei scema, Pramantino, tu di chi eh? Allora Giulio, buonasera, tutto bene? Sto bene, allora Giulio, allora Giulio, cosa ci presenterai questa sera? Ma adesso non li faccio venire. Demmi, dittimo che fai, te lo sento da solo eh, io non ho detto niente. Va bene, allora vi lascio il microfono, prego, vai con l'estibizione. E buonasera, non me lo va, bene, e me lo male. Abba Tischersi, buonasera, sono Giulio, come avete capito, va bene veramente? Sì, siamo sicuri? Non è che, no, sì, no. Allora dai, questa sera ho visto che ci sono tanti cantanti abbastanza bravi, però per me, allora io ne ho uno nel cuore, bravissimo, ed è il Diziano Terra. E uno dei cantanti riesce ad esprimersi solo con le vocali. È bravissimo. Tutto qua. Ah, oh! È un grande, è unico, è pazzesco. Forse lui di una canzone dove ha messo le vocali con le parole in inglese. E fa, ma io nisco l'in bum, babe, bum, bum, bum. E un po' mea, lui le pare, publicità. C'è un po' mea, lui le pare, publicità. Le mu che fa, ma, bum, bum, bum. E un po' mea, la mia versione. E un po' mea, la mia versione. E un po' mea, la mia versione. Le pare. E' bravissimo. E parlando di televisione, spettacolo, io adoro e adorerò sempre i cartoni della Disney. Bellissimo. I cartoni della Disney sono... E' uno che non si capisce, lo sappiamo tutti, che è quando parla? Paperino. Paperino. Ci voleva sottodirli. Ma sono in bagno. Ma guarda bene, chi è una paper? Gli hanno imparato a parlare l'inglese, l'italiano. No. Invece Paperino ci infeggiò. Ci infeggiò, come ricordate? E si, ma è farà. Ci infeggiò. Paperino cambiava. E poi c'è un bambino. Ci sta il ciocco, grande, grande. Poi, parlando di televisione, ci sono i figli. Ti ha visto i film giapponesi? Ti ha visto i film giapponesi? Ti ha visto i film in 3DT? In 3DT? Ti l'ha visto? Ti non l'ha visto? Io invece sono scemo. Allora, i film giapponesi con piatti, famosissimi. Prima parla la Presidenta. Eه visto? C'è visto? Ti uccidevano chi? Nono. 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 e poi ho visto tanto faccimi complimenti al signore di prima che si merita tanti e tanti applausi veramente un applauso complimenti è una cosa bella dei villaggi un grande applauso ancora a batteria